Allora questo è un video haul in cui vi voglio far vedere gli unici rossetti che ho nuovi della Kiko, ne sono quattro e sono due sheer e due chrome. Allora il primo sheer che vi faccio vedere è 406 e si presenta la confezione così che è questo bellissimo come se fosse madre perla, si spinge sotto, si tira e questo è il colore che è un bellissimo arancio il quale ho provato e devo dire che è molto bello sulle labbra, molto cremoso, ottima profumazione e ottima durata, devo dire molto molto bello. Poi, e questo era il 406, poi l'altro sheer è il 410, questo è la sua diciamo si presenta anch'esso con questa confezione tipo madre perla ed è questo colore roseo, molto molto delicato, anch'esso con una bellissima profumazione e troviamo in questo caso anche dei mini glitter. molto bello anch'esso poi, e questo era il 410, ora passo ai cream, questo è il 500 sempre con la stessa diciamo confezione, questo è un nude, che un nude ci vuole sempre, un bellissimo nude, molto molto diciamo coprente. coprente ed è il 500 ed infine abbiamo il 710 anch'esso è un cream, molto bello questo qua si presenta si presenta anch'esso con questa bellissima confezione, che si spinge anch'esso verso il basso ed è questo bellissimo bordeaux, anch'esso molto scrivente, molto profumato ed ha un'ottima tenuta. e questo era il 710 vedete vedete che vi ricordo che vi ricordo sono il 410 il 406 il 500 il 710 sono tutti belli questi colori del latico anche se io preferisco non tutti ecco per il mio gusto devo dire devo dire sono molto belli e niente ragazze vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao 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 ciao